Balmar presenta il salva aglio, il sacchetto che si trasforma in un cestino e conserva il gusto Lo sapevi che l'aglio è famoso per le sue proprietà benefiche? Oltre ad essere un condimento in cucina, l'aglio è un ottimo antiossidante e antibiotico naturale La sua conservazione è preziosa per mantenere queste proprietà curative Lo sapevi che conservare l'aglio in contenitori o buste di plastica è sconsigliato? Un comune sacchetto non ripara l'aglio dalla luce e non consente la traspirazione, accelerando così la germogliazione e il suo deterioramento Il salva aglio garantisce la conservazione impedendo l'umidità, le muffe e la perdita delle sue proprietà Grazie al doppio strato di puro cotone del salva aglio, l'unico brevettato Con il sacchetto, una testa d'aglio può durare anche 8 settimane Evita gli sprechi, i batteri e le intossicazioni Mantieni in ordine la tua cucina e conserva il gusto Il sacchetto è disponibile su salvaglio.com Grazie a tutti per aver guardato il salva aglio, l'unico brevettato Grazie a tutti!